Musica Buonasera e vi ritrovate a Vita d'Atleta, ho l'onore di ospitare quest'oggi uno tra i più grandi fondisti della storia italiana. Il suo palmarès, leggo perché è talmente lungo, un oro in staffetta, due argini in bronzo e poi ciò che riguarda le Olimpiadi. Tre medaglie mondiali, un oro e due bronzi e svariate vittorie in Coppa del Mondo. Signore e signori, ho piacere di ospitare Pietro Pillar-Cotter. Ciao a tutti. Ciao Pietro, grazie per aver accettato il mio invito. Che dire Pietro, il tuo nome a me rievoca una tua grandissima vittoria. Nel 1997 tu vincesti ad Oslo il Tempio del Fondo Mondiale, quella strepitosa 50 km di Olmen Collin. Che ricordi hai di questo strepitoso evento? Ma sicuramente quella in assoluto è la gara che più mi rappresenta se vogliamo, anche perché è un posto che era unico. Fino a poco tempo fa, e ringrazio Francesco De Fabiani per aver battuto quel mio piccolo record di più giovane italiano di aver vinto in Coppa del Mondo. Quindi vuol dire che se io ero giovane e lui ha vinto, ce n'è stato qualcuno più giovane di me che ha vinto. E speriamo che ce ne sia ancora in futuro uno più giovane di lui. Io ero giovanissimo, avevo 22 anni, ho corso con la spensieratezza che è giusto che un 22enne abbia. Quella gara, oltre al fatto che mi sono ritrovato in testa dal primo all'ultimo chilometro, è stata una cosa che è venuta spontanea. La cosa che più mi sarebbe piaciuta negli anni poi, quando poi ci ho messo il razziocinio per tornare a vincerla, è questo che un po' mi è mancato, il fatto di essere salito sul podio, sono arrivato secondo, terzo, quarto, quinto. Non mi è mancata di essere prestativo in altre occasioni, però nel momento in cui ci ho messo la testa, che l'ho desiderato, non sono poi più riuscito ad ottenere risultato. Quindi c'è questo mix di cose che serve sia l'esperienza, ma anche la spensieratezza dei 22 anni. Pietro, me la ricordo benissimo quella gara lì, ti guardavo ovviamente in televisione, probabilmente i big ti avevano anche lasciato un po' andare, in quanto eri un po' un outsider, invece tu poi ci hai messo la tua zampata vincente. Sul podio con te chi c'era? Sul podio con me c'erano due grandi poi interpreti del fondo soprattutto norvegese, uno ovviamente Biorondeli, che poi però è arrivato terzo, e secondo un mio coetaneo, Thor Arne Eitland, che ovviamente sappiamo benissimo quanto ha fatto anche lui nella sua carriera sportiva. Quindi sono estremamente in buona compagnia, senza poi contare ovviamente chi sul podio non c'era, e se vogliamo mi rallegra molto il fatto di essere presente nel museo che c'è all'interno dello stadio di Olmen Collen, nell'Albo d'Oro, ovviamente leggere il mio nome in mezzo a tanti altri campioni che hanno fatto la storia dello sci di fondo, ma in particolare della mitica 50 di Olmen Collen, che secondo me era mitica, nel senso che fino a quell'anno lì, ed è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso, si snodava su un anello da 25 chilometri. E quindi una volta, capisci bene, che una volta che tu transiti allo stadio, devi pensare bene quanta energia hai ancora in corpo, perché una volta che ritorni all'opposto giro di boa, ti ritrovi che comunque in difficoltà o meno allo stadio ci devi ritornare comunque. E quindi era mitico proprio per questo motivo, purtroppo negli anni poi l'hanno portata a 16,7 km inizialmente e agli attuali 10, e quindi secondo me si è un po' snaturata quella che era il vero mito della 50 km di Olmen Collen. Penso che la pubblico fosse attorno alle 50-60 mila presenze. Io questo ovviamente non te lo so dire, perché percepivo le mie emozioni, più quelle dei mie allenatori che stavano a bordo pista. Di sicuro ti so dire che io quella sera stessa ero a casa mia a festeggiare, perché il volo era già prenotato per l'immediato, e quindi mi sono ritrovato catapultato in un turbine di emozioni, prima lì e poi ovviamente a casa, che in fretta a furia mi hanno organizzato una festa di rientro, ed è comunque stata una cosa incredibile. Nella 2005 in quella di Oberstdorf, il tuo primo titolo mondiale nella 15 km. Anche questa è una bella medaglia nel tuo palmarès. Sì, certo, perché soprattutto dal 1997 al 2005 erano passati diversi anni, con altri tipi di soddisfazione, anche a livello di Coppa del Mondo, con Podi e già un'altra vittoria. Non era stata un'annata estremamente positiva, se vogliamo, soprattutto in quella che era la mia gara, che è appunto la 15 a patinaggio, soprattutto la gara che precedeva quell'evento. Non so se questo possa avermi scaricato un po' della responsabilità di dover ottenere un risultato, oppure mi abbia motivato ancora di più. Fatto sta che è stata una gara tiratissima, come non mai, soprattutto perché il percorso di Oberstdorf è veramente impegnativo, ma più che la vittoria in quella circostanza il grosso motivo di soddisfazione e di festeggiamento è legato al fatto che siamo arrivati i primi e i secondi. Primo io e secondo Fulvio Albusa. Noi per anni abbiamo condiviso la stanza insieme e quindi poi ritrovarci primo e secondo, tutti e due sul podio, non aveva importanza sinceramente chi primo e chi secondo, ma trovarsi insieme ha reso la mia festa una festa doppia o a maggior ragione una festa di tutti. E poi soprattutto l'indomani mattina quando ci siamo svegliati, avevamo appeso le nostre medaglie al lampadario, ci siamo svegliati e le abbiamo viste lì, è stata una cosa molto carina. Avete realizzato che non era un sogno? No. Nel tuo palmarès olimpico, vedo, leggo, leggo perché dovrei ricordarmi la memoria, ma ci picchiolina, sono troppi titoli, un oro realizzato in staffetta a Torino 2006, un argento individuale nella 15 km di Vancouver 2010, argento ancora a Soli City 2002 ed un bronzo ad inseguimento Torino 2006. Quale di queste medaglie ha più importanza? Probabilmente tu mi risponderai l'oro, ma non ne sono sicura, in quanto poi magari le medaglie individuali hanno un altro sapore. Sì, hai perfettamente ragione, è difficile toglierne una in particolare o dare maggiore importanza. È ovvio, è quasi scontato dire che quando è oro, e tornando anche al discorso di prima, in staffetta il fatto di poter godere di un risultato che hai condiviso con altri tre compagni, sicuramente io, noi quattro, ma probabilmente tutti quelli che ci hanno voluto bene, abbiamo vissuto quella giornata, la gara, ma anche la premiazione a Piazza Castello sotto una fittissima nevicata, tra essere da soli o in compagnia tutti e quattro, penso che abbia acquistato comunque un valore molto, molto, molto maggiore. Se non altro, poi dopo la prima medaglia, quella di Salt Lake City perché è la prima medaglia, il bronzo di Torino perché è la prima individuale, però sinceramente l'argento di Vancouver a me rimane particolarmente nel cuore perché l'ho raggiunto a un'età di 35 anni, primo, e poi soprattutto perché io avevo fatto una dichiarazione il giorno precedente alla gara e qui c'è, riallacciandomi al discorso di prima, la consapevolezza dei propri mezzi rispetto ai 22 anni. Io sono arrivato lì consapevole di essere al 100% della mia condizione e avevo candidamente dichiarato che, sì, potevo ambire a qualcosa di importante perché la parola medaglia è sempre un po' un tabù, però se l'indomani ci sarebbe stato qualcuno che avesse avuto un 100% superiore al mio, per me non c'era nessun tipo di problema. Per mia fortuna, oltre al mio 100%, ovviamente anche i materiali erano stati preparati in maniera esemplare, ma c'è stato qualcuno che aveva il suo 100% superiore al mio, in questo caso Dario Colonia, che ha vinto anche con un distacco considerevole, superiore ai 20 secondi, che non è una cosa banale, però per me quella, io la vivo quasi come una mezza medaglia d'oro, perché sappiamo tutti il valore di Dario Colonia e la differenza di età tra me e lui è comunque notevole, e trovarmi lì in quella posizione poco dietro di lui è stata, ma è tutt'oggi motivo di grosso orgoglio. Un Dario Colonia che avrebbe potuto essere un rappresentante dell'Italia, poi forse la federazione un po' se l'è fatto scappare, forse i dinamichi che non sono andati per il verso giusto, insomma che è rimasto nella Svizzera, peccato. Peccato perché se no sarebbe stata un'altra doppietta. A parte la doppietta, anche il saffetto, insomma avrebbe dato sicuramente il suo contributo. Detto ciò Pietro, torniamo indietro, torniamo alla tua infanzia. Sei nato sciatore? Sì, ma sono nato discesista. Come tanti. Come tanti, non lo so di preciso per quale motivo, forse sì, che poi dopo si collega un po' tutto, perché mio zio faceva il maestro di sci, allenava i ragazzini, poi un po' per spirito di emulazione perché era un po' un mattacchione, quindi era quasi normale. Poi le amicizie si spostano in base a dove va la corrente, quindi sono nato discesista. C'è un aneddoto un po' particolare che mi ha portato a diventare fondista, che è sempre legato appunto a questo mio zio. Non so se si può dire, ma che i ragazzini non mi prendano da esempio. Per noi era molto più semplice raggiungere casa di mia nonna, in cima a una salita avremmo dovuto affrontarla con gli sci in spalla. Quindi l'ultima corsa la prendevamo con una vecchissima seggiovia, c'era un posto singolo, lui davanti al limite del bosco saltava, io all'età di 7-8 anni facevo come lui per poi zizzagare, arrivare fino fuori dalla porta di casa. Al terzo avviso di mio padre mi ha tolto gli sci da discesa, mi ha dato quelli da fondo, non ero per niente contento, infatti le prime volte erano grandi lacrime, però poi dopo alla fine gran parte delle mie amicizie si sono spostate lì, ha incominciato a piacermi, ben presto sono incominciati ad arrivare anche i primi risultati a livello zonale e da lì in poi tutto quello che si sa. Pensavo ti fossi dato al salto, visto che ti piaceva saltare. No, purtroppo non c'è un impianto legato al salto, quindi la cosa più comoda e facile era andare a fare sci di fondo, anche perché comunque a Sappada, anche al mio paese natale, c'è una grandissima tradizione di fondisti. Quindi suppongo tu sei entrato tra le fila del tuo sci club, che si chiama? Kamoshi. Kamoshi, quindi poi da lì hai partito la tua carriera con le prime tappe dei bambini, trofeo topolino. Mai fatto il trofeo topolino in vita mia perché il nostro allenatore dell'epoca non era molto per la quale, però a parte le zonali, i campionati italiani, l'NG, dove nelle zonali poteva andare sempre molto bene, quando poi mi confrontavo a livello nazionale non sempre andava benissimo, però sono contento perché ha fatto parte della mia crescita, dove è importante che non sempre tutto vada in discesa, tutto sia facile. Quindi è importante ogni tanto prenderla anche, sbatterci il naso e capire che c'è anche qualcuno che va più forte. E dalle sconfitte che si impara poi a rialzarsi, testa ancora più bassa e ad allenarsi, lo sappiamo tutti, il fondo è una disciplina molto faticosa, molto impegnativa. Ovviamente frequentava anche le scuole superiori, certamente, e riuscivi ad abbinare le due cose. Diciamo che la mia prima scelta scolastica è stata dettata ovviamente dal poter stare più vicino alla pista di fondo. Non è stata, perché poi io l'ho abbandonata, non è stata una scelta sbagliata, se ci ripenso. È che, essendo stato un liceo linguistico privato, ovviamente richiedeva un impegno scolastico che io in quel momento non ero in grado di dare, o meglio. Ero già molto più concentrato verso lo sport. Se ci ripenso adesso, mi rendo conto che sono stato un pirla a non concentrarmi di più lì. Il fatto sta che dopo, alla seconda, ho cambiato indirizzo e ho scelto di andare a Falcade, dove nasceva per la prima volta il primo anno lo Schi College di Falcade. Quindi ho dovuto ricominciare comunque dalla prima, cosa che comunque mi ha anche agevolato venendo da altri due anni precedenti. e quindi poi ho concluso i miei studi lì, grazie soprattutto a questa struttura che permetteva ai giovani atleti sportivi di mettere insieme studio e sport. La tua prima maglia azzurra? Ricordo benissimo anche questo episodio, perché io sono entrato nei settori giovanili della nazionale Juniores, che ero ancora aspirante e il mio primo test di valutazione a sondalo l'ho fatto e quando l'infermiera mi ha chiesto quanti anni, io ho risposto un 14, quindi giovanissimo. E quindi la tua prima gara in azzurro qual è stata? Questo veramente non me lo ricordo. Quattro Olimpiadi e le Olimpiadi sappiamo sia un'emozione unica, ce n'è una di questi, al di là magari dei risultati che ha avuto un sapore diverso? Sì, l'ho rivista anche poco tempo fa su YouTube, la prima, perché comunque giovanissimo, avevo 23 anni a Nagano, sono stato portato inizialmente per alcune gare come riserva, ma la mia gara era la 50 km. Fatto sta che c'era una neve tipicamente primaverile, purtroppo, e avevo raggiunto i miei compagni di squadra, Silvio Fauner e Maurizio Pozzi, che partivano 31 minuto davanti a me, quindi si erano creati i presupposti per poter fare veramente qualcosa di bello, di importante. In quel momento poi mi trovavo in seconda o terza posizione, purtroppo il mio sci ha preso una direzione diversa, in discesa, c'era tantissima neve, sono uscito di pista, mi sono impigliato nelle reti, ci ho impiegato tantissimo tempo a ritornare in pista, arrabbiatissimo, ho ripreso tutta la mia attrezzatura che era sparsa lungo la pista e ho terminato la gara comunque in quindicesima posizione, ho aspettato un'Olimpiada intera, tutto un periodo olimpico per l'ultima gara, che poi è andata a finire così. Comunque un ricordo anche quello che è servito per poi evitare certi sbagli anche in futuro. Era un bel ambiente nazionale in tutta la tua lunga carriera? C'è sempre stato un bel clima? Io mi sono sempre trovato veramente bene e soprattutto a livello uniores, dove si è ragazzini, soprattutto lì ho imparato a temprare il mio carattere, dove devi comunque essere forte, perché io ero sempre il più piccolo o il più giovane e quindi devi essere in grado di non andare sopra le righe, ma nemmeno di farti mettere i piedi in testa. Quindi una volta che riesci a farti la tua personalità, una volta che poi passi nelle squadre maggiori, sempre da più giovane, però sei già stabile a meno con te stesso e quindi questo ti permette di relazionarti anche agli altri in maniera da riuscire a creare quel clima, quel gruppo che alla fine poi per tanti anni è stato anche se vogliamo una ricetta per il successo. Beh, poi comunque ci accennavi, avevi come compagno di camera Bubu Valbusa, quindi avevi una bella spalla, un bel fido scudiere. Ma neanche fido scudiere, prima di lui c'è stato Silvio Fauner, poi Fulvio Valbusa, quindi è importante anche avere una sintonia all'interno della stanza, il tuo compagno col quale hai più sintonia rispetto ad altri, però poi comunque il gruppo è importantissimo. Anche se poi, scusa, è uno sport individuale, però l'armonia all'interno della squadra è importante. Certo, tu dici mio compagno di camera, ma mai come probabilmente nel fondo sorge anche una certa tipo di affinità tra di voi, mi viene in mente i lunghi raduni al nord in cui dopo l'allenamento, insomma, penso vi rinchiudiate nelle camere perché non c'è molto altro da fare, quindi si sta tanto tempo assieme. Sì, in passato era molto più complicato rispetto a come è adesso. Io ho imparato a leggere tanti libri nei vari spostamenti, piuttosto che queste trasferte molto lunghe e soprattutto buie in Scandinavia, soprattutto a novembre. Ci attrezzavamo anche, ci portavamo da casa il videoregistratore con le cassette VHS all'epoca e adesso è tutto più semplice perché con internet è tutto molto più semplice. Anzi, adesso addirittura ci si isola se vuoi, ognuno si fa le sue cose sul telefono, sull'iPad e tutto quanto, invece una volta si era proprio compagno. Era un motivo, alle nove puntuali incominciava il film in una sala per tutti. Hai accennato che sei un lettore di libri, il tuo preferito qual è? In assoluto Ken Follett. Uno in particolare? Pilastri della Terra. Ah beh, un bel malloppo, avrei avuto tutto il tuo tempo per finirlo. Pietro, una giornata tipo di un atleta dello sci di fondo durante un raduno estivo? Ma non è che ci sia niente di particolare, però forse sono i dettagli che possono fare la differenza. Ovvio che a risveglio c'è la colazione e l'organizzazione per quello che potrebbe essere l'allenamento della mattina, soprattutto nel periodo estivo, si può passare o dalla camminata, il giro in bici o mountain bike, piuttosto che gli schiro, la forza o la corsa. Quindi in funzione anche del mezzo di allenamento ci si organizza. Sono, secondo me, la cura dei dettagli perché poi dopo pranzo, riposo, massaggio, allenamento del pomeriggio, cena, telefonata a casa, presto fatto. Però, non so, curare l'integrazione, cosa mettere nella borraccia, portarsi qualcosa da mangiucchiare appena finito l'allenamento, una seconda borraccia finito l'allenamento per continuare ad integrare liquidi persi, come anche la cura dell'alimentazione, cosa mangiare, come mangiarlo, quando mangiarlo. Secondo me questi sono aspetti che negli anni ho imparato a curare. E a gestire in ottimo modo. Vediamo se sei ancora informissima come ai tempi. L'alimentazione è fondamentale, certamente. Che cosa non potevate mangiare? Io mi sono, diciamo, anche un po', se vogliamo, arrangiato. Mi sono documentato anche personalmente su quelle che potevano essere le mie caratteristiche. e in funzione di questo ho cominciato ad eliminare alcune cose, ma non era una cosa, un dettame a livello federale o della squadra o dell'allenatore che imponeva o vietava un certo tipo di alimenti. Il pizzocero piuttosto che il salame. Il pizzocero va benissimo. Assolutamente. La capponata. Sono più cose personali che poi a un certo punto ti rendi conto che assumendole non ti fanno bene. Quindi è anche più semplice evitare, nel mio caso, il latte, se vogliamo. Per me era un must fare colazione con il latte quando poi ho capito che quello non era la strada giusta. È stato anche, tra virgolette, facile abbandonarlo. Quindi se ti chiedessi la colazione tipo di Pietro Peller Kotler? Ancora oggi possibilmente una galletta di mais con grana e bresaula, assolutamente. Se non è la bresaula che riesco ad avere, ovviamente da Livigno, tramite tanti amici, il prosciutto cotto, la fesa di tacchino e poi le stesse gallette con del burro, quello me lo concedo, con la marmellata, il miele, un succo e ovviamente il caffè per finire. Il pranzo di Pietro Peller Kotler? Ma cerco di essere sempre molto bilanciato. Spesso mia moglie si arrabbiava con me perché mangiavo poco, però facendo degli spuntini anche durante la mattina, la stessa cosa anche nel pomeriggio. Avevo una richiesta al pasto principale che era abbastanza limitata, quindi mai più di 80 grammi di pasta in modo tale da avere ancora fame e sufficienza per mangiare un pezzo di carne e della verdura. Durante il pomeriggio ho vari spuntini con della frutta piuttosto che una vasa con ancora del crudo e del grana, al miele e la stessa cosa per la cena. Ma la voglia di cioccolato piuttosto che del panino col salame? Come la gestivi? Il panino col salame me la prendevo, della cioccolata non sono un gran fanatico, se dovevo sporcarmi le mani però che fosse almeno cioccolato fondente. Cavolo, quindi veramente super attento alla tua alimentazione. Quanti giorni all'anno si allena un fondista? Tu ti allenavi quanti giorni in un anno? Dall'ultima gara che potrebbe essere stata il 30 di marzo, i primi di aprile, togli il mese di aprile che sono 30 giorni, hai 365, più qualche riposo lungo l'anno, insomma 320, 300, insomma sì, sopra i 300. Comunque non pesava allenarsi? Ma no, anche perché fondamentalmente era il mio lavoro e venire pagato per una cosa che ti piace fare non diventa più assolutamente una fatica, quindi c'era una scaletta un giorno dopo l'altro, sapevi organizzarti in base al tempo, in base a quello che c'era da fare, quindi era molto semplice. Pietro, una lunga carriera la tua interrotta purtroppo bruscamente nel 2013 durante la marcia longa? Sì, in effetti non avrei avuto intenzione di continuare ancora molto oltre quella stagione, anzi forse a prescindere da quella caduta probabilmente avrei comunque dichiarato le mie intenzioni di abbandono. Fatto sta che comunque c'è stato qualcosa o qualcosa che ha scelto prima per me e proprio nella marcia longa ero in coda al gruppo dei primi in una discesa allo sci un'altra volta ma non come quello di Nagano nell'inserirmi nel binario uno sci non si è inserito è partito per la tangente e mi sono, tra virgolette, sfraccellato contro una staccionata. Ho avuto dei grossi problemi a ginocchio ho fatto un bel lungo periodo con il tutore e riabilitazioni varie e a quel punto l'ho interpretato come un segno che forse non era nemmeno il caso di terminare la stagione e quindi è finita lì. Con ramarico? No. L'ho interpretata? No, no, no. Ma assolutamente come ho detto avrei comunque terminato la mia carriera lì avevo già ovviamente un discreto numero di anni 38 e quindi anche se abbiamo degli esempi ancora tutt'oggi con Giorgio Di Centa che ha partecipato ai mondiali a 42 anni quindi siamo molto longevi però per me era giunto comunque il mio tempo e avrei scelto quella cosa comunque si è solo anticipata di un po'. E poi comunque hai avuto la fortuna di rimanere nel settore? Sì esattamente da quella primavera stessa sono stato inserito nel organigramma della federazione come inizialmente come aiuto allenatore nella squadra B o Under 23 e dalla passata stagione oppure questa che è appena che è appena conclusa ho preso in mano di mio pugno sempre la squadra Under 23 femminile in particolare e sono veramente contento del mio percorso di nuova vita perché sto a mezzo ai giovani ho lo spirito giovane e soprattutto perché c'è del terreno fertile per riuscire a trasmettere loro anche se magari a piccole dosi parte dell'esperienza che io mi sono accumulato in quasi 20 anni di attività. Pietro la nazionale italiana femminile dopo l'era di Follis Mariana Longa e Magda Genuina insomma ha avuto forse un ricambio generazionale tu sei allenatore dell'Under 23 possiamo tornare a sognare in grande? Ma secondo me sì perché le ragazze che ho seguito in questi due anni sono tutte giovani dall'anno 91 all'anno 93 e quindi si può dire che siano giovani quello che a loro manca in questo momento è avere una figura di riferimento che abbia quegli 8 10 anni più di loro che possa permettere con i suoi risultati intorno alla quindicesima posizione in Coppa del Mondo che possa permettere alla loro classifica di essere valutata anche positivamente anche arrivando fuori dalla trentesima posizione che sappiamo che assegna i punti in Coppa del Mondo purtroppo ci manca questa figura un po' di leadership all'interno delle prime eventi di Coppa del Mondo e quindi se si va a guardare una classifica del movimento italiano in Coppa del Mondo ci ritroviamo a vedere che magari la prima è quarantesima però è quarantesima ed è al suo secondo anno di senior io questo percorso di crescita altro che lo ho avuto perché quando io avevo la loro età davanti a me ce n'erano almeno 5, 6, 7 o 8 che tra il podio e la trentesima posizione permettevano a me di crescere con gradualità loro questo purtroppo non ce l'hanno però sicuramente si stanno facendo temprando il carattere da sole perché anche le critiche le sentono anche loro ed è un motivo ovviamente per crescere e crescere e crescere quindi secondo me con un po' di pazienza arriveranno l'ultima domanda Pietro hai un idolo sportivo al di fuori magari anche dello cittifondo in assoluto sì ce l'ho ed è Heilege Braselase per me è stato anzi mi vengono qua i brividi anche adesso a pensarci è stato un mito dell'atletica leggera mi incantavo nel guardarlo ma ancora oggi se lo vedo in televisione perché comunque non è scomparso dalla faccia della terra rimango incollato ad ascoltarlo perché secondo me è stato è ancora oggi un uomo con un carisma incredibile una corsa leggera un po' come la tua sciata Pietro avevi uno stile impeccabile grazie davvero per aver accettato l'invito grazie in bocca al lupo per la tua nuova missione crepi il lupo grazie grazie ancora ed è tutto per questa sera grazie per la cortesia attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti